ragazzi benvenuti in questo nuovo video di propante un video speciale perché oggi andremo ad affrontare un team da 12 giocando in 6 avete capito bene 6 players contro 12 su propante riusciranno i nostri eroi a superare questa ardua sfida scopritelo nel video buon fregosto a tutti intanto oggi uscirà solo un video ragazzi perché fregosto anche per me quindi non voglio di fare due video però apprezzerete lo stesso buona visione raga quante siamo scusate siamo 6? siamo 6 non è? 6 contro 12 6 contro 12 raga cioè se riusciamo a vincere questa partita siamo i più forti del mondo di propante e teo ma abbiamo anche glitch come al solito teo contiamo tutti su di te ma immaginate 12 persone che cercano l'ultimo sopravvissuto raga che sparano a tutto mi cascano me ci spacchiamo da ridere ve lo dico allora io sono un cassonetto è una lavatrice che è sto coso dell'energia gigante provo a cambiare ragazzi me la rischio ok sono un condizionatore raga minchia no vabbè raga guardate raga no andati a mettere a fianco a me zio ma con tutti i muricchiani della mappa devi a fianco a me però cioè è buono ma allo stesso tempo non è buono perché non c'è un cazzo a fianco a me vabbè sti cazzi raga è partita 6 contro 12 la sfida è impossibile la battaglia leggendaria di propante riusciranno i nostri eroi a sopravvivere dai tuo padre chi è questo che sta correndo shot vabbè ragazzi tematici io ne ho già un non bestemmiare animale 2 minuti e 5 ma poi io penso dopo a tolomarli come li troviamo 12 ragazzi no vabbè è possibile c'è dietro il tubo dobbiamo sapere di avere soltanto 2 minuti e 40 solo in 3 ti ho provi niente io non è molto tattica come cosa raga 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 no eh via te provieni io sono sparato in 8 cioè raga io e andre gli unici sopravvissuti no mi hanno uscito adesso se qualcuno sente il fischio mentre ecco qua ora lo sento e li mi sgambano guarda 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 eh il tuo si non so come hanno fatto non c'è delle sfondi merda oh mio dio mi hanno sentito a me mi sentono per forte dopo non mi hanno visto non mi hanno visto eh ho capito ma se non guarda in aria raga stanno sparando a tutto sono molto in aria io eh ti prego vai via vai via vai via 4 secondi vai via vai via a battere raga quanto mi ha a resistere 1 minuto e 55 oddio non c'era nessuno qui godo andre cambia squadra fai casino così non sentono il fix raga raga non avete capito io ho uno sciame di nemici qui ok hanno tirato una stando mi hanno preso mi hanno preso ah è solo andre cosa sei andre eh vabbè dai non è male come punto zio eh ci sta hai una flash ancora 1 minuto e 30 raga cioè se andre riesce a fare questa cosa raga un matto c'è 12 persone che lo stanno cercando 12 persone che lo cercano 1 minuto e 20 una mappa enorme potrebbe essere in ogni angolo ma loro sono troppi andre noi crediamo in te sappilo siamo tutti contenti stiamo dando la nostra energia hai la flash andre 1 minuto e 10 1 minuto e 10 infatti quindi infatti per quello dico non c'è nessuno quindi orco 2 guarda nella mappa fermo andre non ti muovere sono sicuro andre se ti arrivano davanti i flash li scappa ok aspetta fermo non fare nulla non fare nulla ok ok godo godo dai eh c'è il fischio sti cazzo zitto 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 vedi la far casino col microfono qualcuno vada in chat di gioco a urlare così non lo sento noooo o Allora scappa scappa no Andre no no muoviti muoviti vai vai corri 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 Andre andre 4 vai 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 non ti fer unemployment su sali su sali no 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 si si oddio! il fisco finale vai di no a fare il rumore oddio gli passano tutti in avanti no ma c'è la reina ANDRE ANDRE TE L'hai fatta 4 3 2 1 C'erano tutti da... No vabbè raga mi sto soffermando il cuore No questa è storia Questa è storia di ProBunt raga Questa è storia di ProBunt Andrew 93D l'eroe che l'Italia Meritava L'eroe che l'Italia meritava 12 uomini non sono riusciti ad ammazzarli in 2 minuti Emo Emo ragazzi entrano in giochi cacciatori raga Dovrete ammazzare almeno 2 persone a testa per riuscire a vincere Sono tantissimi Più che altro raga se iniziano a correre tutti non la finiamo più ve lo dico Io ho paura di quello cioè più che stanno fermi Prende se si muovono tanto Ci siamo raga let's go let's fucking go Vai Allora Sparate a tutto eh Ora sei anche in aria Trovato uno Bravo Andre Andre che uomo Un altro godo No è un'esca ma pezza Ammazzato un'altra esca Oh ma mi hanno rotti i coglioni stai esche Ammazzato un tipo a godo Dai raga Il fatto che il prossimo round è ancora più difficile Perché sanno un po' le cose Nel prossimo round dove ci mi... Un'altra esca distrutta Ok Un'altra esca distrutta ok Infatti che rimangono raga 10 Non fermatevi mai Bravo Poppy Buono Poppy C'è uno qua ancora Ma a te o c'è qualcuno C'è un bidone Io controllo le suggeri esche Ma dove cazzo sono raga Ok c'era uno allo spawn loro Che è scappato ora Uno fatto Bravi Sì sotto un'esca Sì qualcuno è qui vicino raga Lo spawn Ragà lo spawn Sì Ti lancio una stunna Bravi Rimangono sette persone raga Un minuti e cinquanta Ma là qui non ci dovrebbe più nessuno Leo andiamo dall'altra parte Sì 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 Ti ho due stordentine mi esattro un po' Ho sbagliato Ok Ragà rimangono quattro invita e basta C'è gente qua Eh sì Stavrà piccata in qualche muro sicuro Eccolo Ok guarda Sì ti Qua c'è qualcuno Mi sa che ce n'era un altro Oh sei tu fisco È qui in zona eh Guardate sopra che stava una piccata in aria Bravo Oddio dovera Uno è qui raga Uno è qui in questa zona Quello starà bestemmiando raga ve lo dico io Mangon due dai Sì sì È qui è qui è qui in questa zona È qui raga è una di queste cose qua secondo me Cosa cazzo Trovato ho trovato ho trovato si è mosso per sbaglio ok L'ultimo raga L'ultimo 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 L'ho sentito mi sa che Qua da me qua da me È lei è lì lì E sta muovendo Sì Let's go Minchia raga Siamo assurdi raga Cioè Assurdo Abbiamo sto Vabbè incredibile sta roba Se vinciamo un'altra round abbiamo battuto un team da 12 ragazzi Cioè roba storica proprio Però punt più Non si può fare di peggio Cioè impossibile Va bene Dobbiamo vincere quest'ultimo round ragazzi Pochi cazzi Eh ciao è difficile Che cazzo sono io Però minchia non è male come cosa questo qua Guardi dove sono Io sono una cosa un po' ambigua raga Dove sono Mi ero ammazzato Mi ero ammazzato raga Mi ero accorto che erano partiti Che palle Non me ne ero accorto Coppi ti sgamano Te ho provo in intro Come si è arrivato là sopra scusa E sono saltato da sopra il tetuccio No ragazzi Avete vinto cioè è palese Avete vinto Raze è morto Andre è morto Io non lo trovo A me può darci di sì Perché se non vale Ragazzi siete già due No No tre Poppi è morto Ormai Poppi è morto Poppi sta scappando Raga dovete resistere per due minuti e cinquanta Ok Poppi è morto Poppi è morto Eh capisci Poppi è in seguita Stanno guardando tutti No figlio di troia No Non hanno visto me però No ma te sei un segno Non ci vedono Due minuti e trenta Teo Provini Può fare il miracolo Solo lui Deve resistere in un punto E in un punto è raggiungibile In teoria In teoria Teo ti potresti No non fare nulla Fai fermo Non faccio niente Comunque ragazzi Comunque ragazzi Non vorrei dire ma Anche se perdiamo sto round E anche quello successivo Male che vada pareggiamo Perché non c'è il round extra Cioè in realtà vinciamo Perché abbiamo più kill di loro Vinciamo capito A parità Ma mica stanno sparando a tutto Se tu riesci a vincere Stà partita È la parità dei clash Questa qua Troppo in alto Eh no Eh no Eh no Eh no Eh no Eh no Guardalo Mi insegna Mi insegna Mi insegna Teo Quindi non lo vogliono Che culo è pagato Corri Corri Attaccati a un muro A caso Adios Adios Un minuto e trenta Mancava Vabbè raga Ci stava Io ho giocato Sono morto subito Come una pippa in culo Non mi era accorto Cioè avremmo bisogno Di più tempo noi Per nasconderci Perché cioè chiaramente Dobbiamo entrare A nascondigli i migliori Vabbè raga va bene E li sgambiamo Li sgambiamo di nuovo Tutti quanti e basta Cioè non c'è da dire niente Concentrazione massima raga Troviamoli tutti Come abbiamo fatto prima Parata tutto Tutto quanto Iniziamo dallo spawn Andiamo per gradi raga Iniziamo dallo spawn No 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 Qui uno qui Bravi bravi Andre un check Buttiamo giù Andre non è miss a uno Guardate a tutto Bravo Poppy No lo spawn è pulito No Non c'è caduto giù Cosa Fermo Non c'è nessuno va dentro No non c'è Bravo Bravo Raga io non ho trovato Oh Ho trovato un cristiano io Ho trovato uno Qui 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 In mezzo alla monnezza E qui E qui Tu ed io qui Tu ed io qui Ah uno anche qua da me Lo spawn Due sono qua da me Lo spawn Ho trovato uno No è qua sopra Ferito Feritissimo Preso Raga Quattro vivi Solo quattro E qui mi ha sordito Mi ha sordito Bravo Sei accinto Andre? Ok Sì sì Sto facendo solo assist Incredibile Ho dato due pugni Raga Tre nemici Si può fare Si può fare Si può fare Ferito Sono tutti e due Qua Ferito Ok Raga Non fa da me All'altro Dove sei? Dove sei? All'altro Sentito E qui sopra Uno nella casa Mi sa E qui Levati Levati E qui L'ho sentito Sta qui Sta qui Da me Dove? È un vasetto È nato di qua No raga Raga vi giuro Era sopra uno Era sopra la casa Mi sento male Dov'era? Cazzo Guarda cos'era Raga mi sa che abbiamo perso Sapete non lo so Perché il pareggio non esiste Vediamo cosa è successo Vittoria Perché abbiamo fatto più kill Raga semplicemente Perché Però vabbè abbiamo pareggiato Dai Abbiamo fatto più kill Perché erano di più loro Non per altro Raga Quindi dai Pareggio Minchia comunque è leggendaria questa partita Veramente leggendaria Siamo andati vicinissimi in trambi round Ragazzi il video finisce qui Noi ci rbecchiamo domani alle 12 come sempre con un nuovo video Auguritevi questa giornata E a domani Bella